La società attuale La società attuale è divisa tra gente onesta facente parte della classe media e la cosiddetta casta. La casta vive nell'agio, il proprio benessere sottrae risorse a tutta la gente onesta, più aumentano gli appartenenti alla casta e più la classe media si impoverisce. L'arricchimento della casta porta inesorabilmente ad aumentare il divario tra costoro e la classe media che oramai è stata ridotta allo estremo. Le nuove generazioni si vedono sottratto il lavoro e le risorse economiche da tutta una serie di personaggi che ha frotte si sono asserviti alla casta. In passato abbiamo assistito all'inalzamento di un muraglione che divide una classe opulenta e disonesta da quella dei miserabili che per sfuggire da un destino ingrato tentano di scavalcare il muraglione per mettersi in salvo. Pochi ce la fanno a scavalcare il muraglione, e ottenere quindi qualche privilegio che gli possa garantire un qualche agio, agio che comunque andrà a discapito della collettività. Chi fa parte dei privilegiati non vuole cedere l'osso, di conseguenza il popolo degli oppressi si sta organizzando per abbattere il muro e creare una società equa e solidale. La casta, avvallata dalla grandissima fiumara di privilegiati, si stanno arroccando sulla propria posizione, questo immancabilmente porterà ad una rivoluzione incruenta perché è fisiologico che ciò che non si piega, si spezza. Le vittime della società, sono ridotte alla disperazione non per propria colpa, ciò che rivendicano, e il rispetto dei diritti costituzionali, la distribuzione del lavoro in maniera equa tra tutti, e la cancellazione di ogni beneficio che permetta al singolo privilegiato di arricchirsi, perché un arricchimento avvallato da regole corporative è un crimine che sottrae risorse a tutta la collettività. In un futuro prossimo, gli anziami non potranno andare in pensione perché la loro pensione se l'è presa un privilegiato prima di lui, e la gente sarà divisa da un muro sociale che separa ricchi da miserabili, tutto questo ci inorridisce, quindi l'unica alternativa è di combattere affinché questa prospettiva non si avveri. Dobbiamo lottare per un mondo giusto. Dobbiamo lottare per un mondo giusto.